Giuri di dire tutta la verità, soltanto la verità, nient'altro che la verità? Lo giura! Presentati! Io sono Francesco, ho 11 anni e questa è la seconda volta che partecipo al campo. Io sono Sveva, ho 15 anni e questo è il terzo anno che partecipo al campo. Fai una faccia buffa? Ritornero della canzone preferita. L'anno scorso è stata un'esperienza bellissima e dimenticabile. Perché è un campo bello, divertente e istituzionale. Cosa ti è interessato di più? Quando siamo andati alla Marina Militare di Taranto al porto a visitare la nave del tiro. La lezione di riciclaggio. Qual è stato il momento più bello? Quando alla fine di ogni attività svolgevamo dei giochi in cui erano basati sull'argomento. C'avevamo dipinto le panche che abbiamo realizzato. E quello più divertente? Quando abbiamo lanciato la lanterna. C'avevamo lanciato il falò. Che cosa ti ha trasmesso questo campo scuola? Di essere un cittadino consapevole dei rischi del territorio e penso che da grande farò parte anch'io di questa associazione. Ho conosciuto le realtà importanti del mio paese e da grande farò anche il volontario. Volete aggiungere qualcosa? Questo campo è plastic free! Grazie a tutti!